Ciao! Ciao, ho tre domande per te. Vuoi parlarci della tua formazione? Io tutto quello che so lo so perché ho chiesto. Sono molto curioso, ti dirò la verità. Quando vedo qualcuno che fa qualcosa, chiedo sempre perché e chiedo sempre come si fa a fare le cose che fa. Perché quello è il modo migliore per capire le cose. Ti piace viaggiare? Sì, tantissimo. Mi piace girare tanti posti diversi perché girando conosci tante persone e scopri cose incredibili. Scopri tantissime, tantissime cose e poi viaggiandoti emozioni tantissimo. A chi vuoi più bene in assoluto? Agli amici. Agli amici perché sono la cosa più preziosa che ci sia. Gli amici sono qualcosa con cui passi tanto tempo e più stai con loro, più il rapporto cresce e si crea un legame fortissimo. Ottimo, ti ringrazio. Grazie a te.